Un gran colpo, ero là, seduta là, ero un grande colpo. Ci sono andati i corsi subito col telefono per chiamare, invece quei ragazzi là della cantina avevano già fatto loro, loro due e noi due abbiamo cercato di aiutare. Sono andato di là, io l'ho vista, l'ho chiamata. Lui l'ha abbracciata. Lei l'ha abbracciata. L'ho presa la mano. Lei è un'amica, la conosco da sempre, la ragazzina. Dina e Odino sono stati tra i primi a sentire lo schianto fatale e a precipitarsi in strada per portare soccorso, ma per Anna D'Amo, 77 anni, vicina di casa e amica di una vita, non c'era però più nulla da fare. All'indomani restano solo dolore e smarrimento. Anna, sicuramente, sì, mi dispiace. Non posso dire altro perché mi dispiace tanto. In questo tratto di Cadore Mare, all'altezza della frazione di Cammino, i rilievi sono andati avanti per buona parte della giornata, con gli agenti della polizia locale impegnati nella ricostruzione della dinamica, probabile l'apertura di un fascicolo per omicidio stradale. Si deve capire quindi la sequenza di eventi che ha portato alla collisione tra l'Alpa Mito condotta da un 22enne di Fontanelle e la Mercedes della Donna, che si stava immettendo nella strada principale a poche decine di metri dalla sua abitazione. Questione davvero di attimi. L'ennesima vittima sulle strade della marca, l'ennesimo mazzo di fiori in un agosto nero, mentre sull'asfalto ci sono ancora i segni della tragedia e sulla provinciale persistono vecchie e cattive abitudini. Corre troppo forte, corre troppo forte e vieni fuori dalla rotonda e ti invida a correre perché dopo è una rotonda e l'hai fraca e dopo è così.